Presidente, siamo a 49, siamo quasi alle nozze d'oro. Sono arrivate a ben 49 le fiducia apposte da quando il Governo Draghi si è insediato. È un record, sebbene negativo, che vede in 15 mesi questo Governo porre ben 49 fiducia e quindi umiliare un Parlamento, non solo perché in un modo ormai chiaro questa maggioranza ha deciso di svilire l'operato dei parlamentari, cioè degli unici rappresentanti eletti dal popolo italiano, ma anche perché questo atteggiamento che Fratelli d'Italia denuncia da mesi risulta anche ancora più grave perché si sovrappone al fatto che ci troviamo a vivere praticamente in un monocameralismo di fatto. Per l'ennesima volta un decreto legge di conversione pervenuto dal Senato a una seconda lettura blindata alla Camera non viene neanche analizzato e si passa direttamente dopo due ore e quattro minuti, solo due ore e quattro minuti di discussione in Commissione, all'Aula, dove lo si blinda ulteriormente con la posizione della fiducia. Altro problema serio, come del resto è stato riconosciuto addirittura anche da colleghi della maggioranza, è poi quello della confluenza fra vari decreti legge. Questa maggioranza si era impegnata ad operare per evitare la confluenza fra decreti legge vari che complicano la lettura delle normative e privano ultimamente di rappresentanza del Parlamento. Ma ancora, assistiamo, continuiamo a assistere alla decretazione di urgenza. Dunque, un provvedimento come questo, che peraltro è disomogeneo, un decreto omnibus, che impegna ingenti risorse, viene ancora una volta esaminato in pratica da una sola delle due Camere. In barbe all'articolo 70 della Costituzione, che prevede invece che tutte e due le Camere esaminano i provvedimenti, all'articolo 72, che dice che questo esame dovrà essere compiuto articolo per articolo, all'articolo 76, all'articolo 77, che disciplina l'emmanazione dei decreti legge, all'articolo 67, che enuncia che ogni parlamentare rappresenta la nazione. Cioè, questo Governo fa il contrario di quello che è imposto dalla Costituzione nell'articolo 54, che recita che tutti i cittadini sono tenuti ad osservare la Costituzione. Anche il Governo e ai banchi. E sul quale invece viene imposta ancora una volta la fiducia. Meno male che avete applaudito il discorso alle aule del Presidente Mattarella, mentre richiamava la centralità delle Camere. Ci chiediamo cosa sarebbe successo se l'aveste contestato. Probabilmente avremmo proceduto per i ditti direttamente di qui in avanti. Ci chiediamo ancora dove sono tutti quei colleghi che l'hanno applaudito, il Presidente Mattarella, quando parlava di centralità del ruolo del Parlamento. Si sono dissolti nel mare della convenienza, probabilmente. Ricordo ancora la vicenda in Commissione, due ore e quattro minuti, senza dossier, senza documenti stampati, sapendo che il tempo a disposizione era pochissimo e quindi anche i pochi, 30 emendamenti di Fratelli d'Italia a dimostrazione della volontà di non avere atteggiamenti ostruzionistici non sono stati esaminati. E questo problema si sta attuando, sta avvenendo ripetutamente. Impetutamente si ripercuote sulla Camera ma a volte si ripercuote sul Senato non appunto perché c'è un'opposizione durissima o struttiva che contrasta il lavoro della maggioranza. Si vive questo fenomeno molto spesso per via dei contrasti interni a questo Governo. Citerò soltanto il DDL concorrenza, dove non riuscite a tirare fuori uranio dal buco. Veramente vi siete piantati su tante vicende, l'ultima è quella della Bolchesta e non saprete prendere un indirizzo. Cioè un Governo che non riesce a dirimere una questione così limitata evidentemente non può poi affrontare le sfide enormi che ci attendono, che attendono l'Italia in questo momento. È per questo anche che Fratelli d'Italia ha deciso di non aderire a questa maggioranza perché era impensabile poter dare risposte concrete agli italiani in un Governo come questo. È oggettivo. Ma c'è di più la violazione dei precetti costituzionali. Poi diventa anche violazione sostanziale delle regole e dei principi. Vogliamo parlare di lavoro? In questo momento c'è questo problema di cui si sta dibattendo della mancanza di lavoro e della mancanza di ricerca di lavoro. Articolo 1 della Costituzione. Vogliamo ribadirlo che questa è una Repubblica fondata sul lavoro? Vogliamo tenere in conto l'articolo 4 della Costituzione che implica essere un dovere del cittadino contribuire attraverso il proprio lavoro alla crescita della nazione? E certo sarà colpa del reddito di cittadinanza forse se le persone non cercano più lavoro. Noi sosteniamo anche questo perché non si può sostituire l'assistenzialismo al lavoro. È di tutta evidenza che le risorse poi verrebbero a mancare in ogni caso. Ma c'è di più. Se voi imputate invece alla scarsità degli stipendi, delle paghe questa mancata appetibilità del lavoro beh, operate di conseguenza. Le nostre proposte per ridurre il cuneo fiscale le nostre proposte, le proposte dell'opposizione per ridurre l'IRPEF ci sono. Quindi c'è una violazione generale. Fratelli d'Italia, come sempre, ha cercato di svolgere la sua funzione di opposizione in modo responsabile nell'intento di apportare dei miglioramenti alle misure presenti anche in questo decreto. Abbiamo cercato di introdurre elementi di valutazione di allargare, per esempio, la platea dei beneficiari e anche le modalità di percentuali come nel credito d'imposta. Per quanto riguarda quest'ultimo abbiamo apprezzato il tentativo di intervento ma continuiamo a manifestare preoccupazione sulle procedure amministrative legate all'utilizzo del credito stesso. Per l'elettricità ed il gas giusto l'incremento dell'Isee a 12.000 euro ma riteniamo che una maggiore attenzione dovesse essere rivolta anche ai soggetti più fragili e con questo mi riferisco alle persone con disabilità grave connesse a macchinari salvavita indipendentemente dal proprio Isee. Ancora, maggiore attenzione doveva esserci anche nell'articolo 12b se relativo alla decorenza dei termini relativi ad adempimenti a carico del libero professionista in caso di malattia e infortuno il quale prevede un effetto retroattivo per gli eventi verificatesi a decorrere dalla data di dichiarazione dello Stato di emergenza peccato però che tale effetto retroattivo il Governo lo abbia dimenticato per i lavoratori fragili dipendenti ancora. E quindi andiamo ancora all'articolo 10bis del decreto oggetto di conversione che prevede che nel caso di realizzazione di lavori che abbiano un importo superiore 516 mila euro e per i quali viene richiesta la possibilità di accedere al super bonus del 110 per le imprese esecutrici che devono essere in possesso di particolari qualificazioni e parliamo della SOA altro che super bonus voi lo state trasformando in un super problema prima il problema delle frodi dove si è corso tardivamente ai ripari poi il preziario le asseverazioni dei tecnici il visto di conformità e i limiti delle eccessioni ho citato soltanto questi pochi esempi per dire che delle criticità all'interno del decreto ci sono sicuramente ne parleranno meglio i colleghi di Fratelli d'Italia quando si andrà unico spazio di esternazione a fare la dichiarazione di voto sul provvedimento finale ma non solo soltanto questi problemi i problemi sono quelli che ho detto prima voi dovete dirci che fare di questa Costituzione in questo modo non è assolutamente più possibile andare avanti si privano i parlamentari e le forze politiche soprattutto quelle di maggioranza ma anche le altre della possibilità di rappresentare il popolo che li ha eletti ha ragione Cacciare siamo già in una post-democrazia diticelo diteci se il futuro dell'Italia non dovrà mai più prevedere un resettaggio che è quello che si compie normalmente attraverso le elezioni anche questo è un impedimento in un momento di pandemia in un momento di guerra l'Italia ancora oggi brilla per una mancanza di rappresentatività popolare e mette in campo un governo che è un quacervo di diverse di diverse opinioni di diversi punti di vista che non portano a niente il combinato disposto di questi nostri ragionamenti ci porta ad annunciare quindi il voto contrario di Fratelli d'Italia una sfiducia che è politica sull'operato di questo governo una sfiducia che è sulle violazioni istituzionali che questo governo opera grazie 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 grazie